Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un esercizio di grammatica insieme. Faremo un esercizio di grammatica in cui dobbiamo scegliere tra il verbo coniugato al passato prossimo e il verbo coniugato all'imperfetto. Quindi, ripassiamo un po' la differenza tra passato prossimo e imperfetto. Qui davanti a me ho il computer con l'esercizio. Andate a recuperare questo file al link che vi lascio nella descrizione qui sotto, così potete farlo insieme a me. Lo trovate sul sito della Mondadori, nella sezione Italiano per stranieri. È un file PDF, quindi voi potete anche stamparlo se volete. In questo file ci sono tanti esercizi, ma noi faremo il numero uno. Poi, ovviamente, voi se volete potete fare tutti gli altri esercizi. Prima di iniziare, però, vi consiglio di andare a ripassare la differenza tra passato prossimo e imperfetto, se non vi è ancora molto chiara. Altrimenti, facciamo direttamente l'esercizio insieme, non è un problema. E ripassiamo man mano. Iniziamo! Voi, ovviamente, vedrete tutto sullo schermo. Allora, sono 15 frasi in tutto. Cercherò di essere breve, ma di dire tutto quello che è necessario dire. La prima frase è da bambino Marco a scuola tutte le mattine in bicicletta. Al posto di dobbiamo mettere un verbo coniugato al tempo corretto. Qui si tratta di un'azione che viene ripetuta tutte le mattine nel passato, quando Marco era bambino. Quindi, abbiamo due indicazioni temporali molto, molto importanti, da bambino e tutte le mattine. Perciò, qui, non ci dovrebbero essere dubbi, in realtà, sul tempo da scegliere, perché dobbiamo assolutamente mettere andava, il tempo imperfetto, proprio perché si tratta di un'azione ripetuta regolarmente nel passato, va bene? Poi, frase numero due. Ieri, Anna, un film drammatico. Qui stiamo parlando di ieri. Guardare un film non è un'azione ripetuta nel passato, è un'azione che inizia e con ogni probabilità si conclude, a meno che il film non sia pessimo e quindi lo lasciamo a metà. Però, anche in quel caso, finiremmo di vederlo, quindi comunque l'azione si conclude. Quindi, qui non possiamo scegliere l'imperfetto, ma dobbiamo scegliere il passato prossimo, proprio perché si tratta di un'azione nel passato, sì, ma che si conclude. È un'azione unica, un'azione unica. Dobbiamo scegliere a visto. Allora, io cerco di andare abbastanza velocemente per non dilungarmi troppo e per non rendere questo video troppo noioso. Però, ovviamente, se voi avete dei dubbi, lasciatemi le vostre domande nei commenti qui sotto. Ok, poi frase numero 3. Paolo, i compiti questo fine settimana? Questo fine settimana funziona un po' come ieri nella frase precedente. Quindi, si tratta anche qui di un'azione conclusa nel passato, perciò dobbiamo scegliere hai fatto. Hai fatto i compiti questo fine settimana? Ricordatevi sempre che quando usiamo l'imperfetto, molto probabilmente si tratta di una descrizione nel passato, di un racconto di azioni ripetute regolarmente nel passato. Quando invece dobbiamo usare il passato prossimo, si tratta per lo più di azioni uniche che iniziano e si concludono nel passato e non si ripetono. Frase numero 4. Mentre tu, io, la TV. Allora, qui abbiamo due azioni contemporanee nel passato e quindi qui per forza dobbiamo usare l'imperfetto, proprio perché in questa frase abbiamo due azioni che si svolgono contemporaneamente nel passato. Quindi, mentre tu mangiavi, io guardavo la TV. Quindi segnatevi questa funzione dell'imperfetto. Usiamo l'imperfetto quando dobbiamo descrivere due azioni contemporanee, cioè che avvengono nello stesso momento, nel passato. Frase numero 5. Da ragazza, mia madre, sempre molte sigarette. Allora, qui abbiamo da ragazza. Questo ci basta per capire che dobbiamo scegliere... Ditelo, ditelo. L'imperfetto. Quindi da ragazza, mia madre fumava molte sigarette. Quindi quando abbiamo da piccolo, da ragazza, da bambino, usiamo l'imperfetto. Frase numero 6. Domenica scorsa Angela e Lucia una lunga passeggiata. Domenica scorsa. Quindi l'azione è iniziata e si è conclusa domenica scorsa. Perciò domenica scorsa Angela e Lucia hanno fatto una lunga passeggiata. frase numero 7. I piatti ieri sera? Ieri sera. E quindi? Un punto preciso nel passato. Ieri sera. Perciò? Ditelo voi? Esatto. Il passato prossimo. Avete lavato i piatti ieri sera? Frase numero 8. Da giovane, Tommaso, molto bello. Da giovane. È una descrizione, tra l'altro, perché qui molto bello indica una caratteristica estetica di Tommaso da giovane. Quindi non possiamo che scegliere l'imperfetto. Era molto bello. Frase numero 9. Chi? Ieri sera. Anche qui ritroviamo ieri sera, perciò la scelta ricade sul passato prossimo. Chi ha telefonato ieri sera? Poi, frase numero 10. Da piccoli, Luca e Martina, sempre per qualsiasi cosa. Allora, qui non c'è bisogno che io vi spieghi questa frase, perché siete bravissimi e già lo sapete qual è l'opzione giusta. Litigavano. Perché? Perché c'è da piccoli e anche l'avverbio sempre. Frase numero 11. L'anno scorso in vacanza un molto. Probabilmente mi riferisco ad una vacanza nello specifico che è successa l'anno scorso e quindi è un momento preciso nel passato. Perciò un'azione unica, perché comunque è nell'ambito di una vacanza e consideriamo la vacanza come azione unica, mi sono rilassato. Frase numero 12. Ieri sera io e Rita con i nostri amici. Ieri sera. Quindi siamo uscite. Frase numero 13. Frase numero 14. Anna Maria. Come da bambina? Vi lascio del tempo per dire qual è l'opzione corretta. Da bambina. Quindi? Eri. Come eri da bambina, Anna Maria? Frase numero 14. Ieri? Tutto il giorno. Ha piovuto. Anche se qui sento il bisogno di scrivere un'altra cosa. È piovuto. È piovuto sarebbe più corretto, perché piovere è un verbo intransitivo essendo un verbo che si riferisce a eventi atmosferici. E quindi sono verbi impersonali, i verbi impersonali vogliono l'ausiliare essere. Ma comunque nell'italiano contemporaneo è accettato dire ha piovuto. Se dite ha piovuto non succede nulla, però sappiate che è piovuto con essere è la forma più corretta. Ultima frase. Frase numero 15. Sabato sera, Letizia e Marcello, tardi allo spettacolo. Sabato sera. Momento preciso nel passato. Perciò? Sì, sì, ho sentito bene. Sono arrivati. Tardi allo spettacolo. Benissimo. Spero che questo video vi sia utile e spero che abbiate fatto questo esercizio insieme a me, così da vedere se vi occorre ripassare questi due tempi verbali oppure no. In ogni caso, se avete dei dubbi o delle domande, non esitate a lasciare le vostre domande nei commenti qui sotto. E ovviamente suggeritemi anche altri argomenti di grammatica su cui possiamo esercitarci insieme. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche, così saprete quando pubblico una nuova lezione. Io vi ringrazio molto per aver guardato questo video e per aver fatto questo esercizio insieme a me. E noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao! Ciao!